Dopo l'audizione di oggi sapete che vi dico? Che se qualcuno aveva pensato di trasformare Scicli, patrimonio dell'UNESCO, nell'immondezza di Sicilia, penso abbia fatto gravi errori di valutazione. Penso si sia sbagliato di grosso. Queste le parole del Presidente della Sesta Commissione all'Assemblea regionale siciliana, Pippo Di Giacomo, dopo una lunga seduta che ha visto coinvolti tutti i principali attori protagonisti della redazione dell'autorizzazione firmata dalla Regione alla società ACIF per il mega impianto di rifiuti pericolosi e non incontrata Cuturi a Scicli. In seguito alla riunione che si è tenuta ieri a Palermo, Di Giacomo e il Presidente della Commissione Territorio Ambiente, Mariella Maggio, hanno scritto al Presidente della Regione e agli Assessori all'Energia, Territorio, Salute e Beni Culturali per chiedere il ritiro del provvedimento che autorizza l'impianto di smaltimento di rifiuti tossici e non tossici per 800.000 tonnellate in quattro anni a pochi chilometri da Scicli al centro dell'area Unesco del Ragusano. Nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Sanità e Ambiente dell'As, infatti, oltre alla contrarietà degli amministratori locali, è stato confermato che l'ARPA non ha mai espresso alcun parere favorevole rispetto alla realizzazione dell'impianto. L'autorizzazione, dicono Di Giacomo e Maggio, non appare immune da vizi di legittimità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici. Pertanto si chiede il ritiro di ogni procedura. Sulla questione è intervenuto anche il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Dario Cartabellotta, che si è espresso in maniera contraria sul piano istituzionale alla realizzazione di incontrate a cuturi e a Scicli di una piattaforma, perché viola un bene Unesco. Intanto il Comitato Cittadino per la tutela della salute e dell'ambiente ha indetto una manifestazione prevista per giorno 6 maggio alle ore 20 a Scicli, con partenza da Piazza Busacca. Una volta ottenuta l'arrevoca dell'atto regionale che ha autorizzato l'impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi e non incontrata a cuturi a Scicli, bisognerà lavorare per chiedere la sostituzione dei tre commissari prefettizi che guidano il Comune dallo scioglimento per mafia decretato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile del 2015. Anche su questo argomento, così come sul decreto 218 del 3 marzo 2016, tutte le forze da destra a sinistra e gran parte delle associazioni che operano in città sembrano concordi. I commissari sono accusati di non fare il bene della città e di amministrare male la stessa, chiudendo le porte a ogni possibilità di dialogo con i cittadini. L'ultimo incontro avvenuto tra i commissari e il Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente è ricevuto 18 giorni dopo la richiesta di confronto urgente protocollata dallo stesso Comitato per chiedere chiarimenti sull'autorizzazione concessa dalla Regione alla società ACIF, atto che, come più volte detto, manca del parere dei commissari con il potere del Consiglio Comunale, ma esiste solo un parere tecnico condizionato a quello politico che non è stato mai redatto. Tuttavia, occorre precisare che i commissari, seppur convocati, non hanno mai partecipato alle conferenze di servizio. I rappresentanti del Comitato speravano di poter richiedere la sospensione in autotutela del decreto per le motivazioni legate alla salute pubblica, ma nei fatti la riunione, convocata solo qualche ora prima, si è conclusa con la piena insoddisfazione dei cittadini presenti. Questo è stato solo l'ultimo di una serie di comportamenti che hanno messo sotto accusa l'operato dei commissari. Dall'aumento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e degli asili nido, aumenti che tra l'altro hanno provocato l'effetto opposto di quello sperato, alla transizione con il Comune di Modica sui debiti per la discarica che ha fatto perdere a Cicli circa 5 milioni di euro fino all'accordo con il CAS per la realizzazione di una discarica di inerti a truncafila. Insomma, a cittadini e deputati il modo di fare dei commissari non piace proprio e adesso, secondo quanto dichiarato da alcuni esponenti politici in diverse riunioni, è ora che su questa vicenda si faccia chiarezza. Il messaggio, quattro conferenze di servizi ai quali il Comune è invitato e nella persona dell'ufficio tecnico e nella persona del sindaco governo e nella persona del sindaco da giugno 2015 a ottobre 2015 erano i commissari che esercitavano la funzione e erano i commissari che dovevano andare. Allora, signori, basta che ce n'è abbastanza perché in maniera tranquilla e chiaro su questa cosa la commissione l'ha sostituita. Questi commissari... Grazie a tutti.